Povera Taranto con le favole di Rinaldo Melucci dice di aver seminato la rinascita e insieme a lui le favole di Musillo, il quale ora prende le distanze, ma Musillo ha amministrato, è stato in maggioranza per quattro anni e mezzo avendo appunto sua cugina sessore, avendo suoi uomini in giunta e nelle società partecipate. Ma veniamo al dunque, ci troviamo in una zona ultracentrale di Taranto a pochi metri dal lungomare via Regina Margherita tra appunto il lungomare e via D'Aquino. Vedete qui abbiamo quelli che erano i bagni pubblici chiusi, non funzionanti, che giacciono nel completo degrado. Vedete il porcile in cui si trovano. Questo è il risultato dell'amministrazione Melucci-Musillo. Capito cittadini? Quando andrete a votare ricordatevi da una parte c'è Luigi Abbate che per 21 anni ha combattuto per la questione ambientale, ha combattuto tanto contro la invivibilità urbana e dall'alto c'è l'amministrazione Melucci più Musillo che hanno ridotto Taranto in questo stato. Lo vedete? Bagni pubblici a Taranto non se ne vedono, cosa assurda. Pensate un po' ai tanti anziani, ma anche alle persone che hanno necessità ovviamente di usare i bagni. Penso alla gente che per esempio fa uso di diuretici e veramente non sanno dove andare. Perché sì, possono andare al bar, però possono andare una volta, due volte, però poi ci sono persone che purtroppo hanno seri problemi. Penso, dicevo soprattutto, a chi fa uso di diuretici e ovviamente la necessità di andare in bagno è insopprimibile. E qui veramente oltre al fatto che non si rendono servizi ai cittadini, ma poi esiste proprio il degrado urbano. Vedete qui, ma siccome qui è a doppia entrata e uscita, a pochi metri, vedete, c'è un altro scempio, proprio in una zona centralissima della città, dinanzi ad una fermata del bus e ovviamente, siccome qui è come i vassi comunicanti, vedete lo scempio. Questo è il biglietto da visita di Taranto, questa evidentemente è la rinascita che Rinaldo Melucci dice di aver seminato. Sfido chiunque a dimostrarmi il contrario perché, ripeto, non penso di essere stato io dieci minuti fa a invadere i bagni pubblici, quelli che erano i bagni pubblici di rifiuti, né chi ma ambiente o chi per lei o qualsiasi altra azienda deputata dal Comune si è mai degnata di andare, non so se chi ma ambiente o altri soggetti deputati si sono mai degnati appunto di andare a ripulire. Questa è Taranto, una città in cui si parla di una rinascita assolutamente virtuale, assolutamente ingannevole, una rinascita tanto declamata e strombazzata che ovviamente poi provoca l'ira, la rabbia del cittadino, il quale si sente preso per i fondelli, letteralmente, perché insomma vedere una situazione del genere è uno scempio. In altre parti d'Italia non esistono queste cose ed è triste dirlo perché Taranto offre tantissimo, che pessima immagine per il turista. Il turista viene a Taranto e si trova l'immondizia appunto in quelli che erano, dicevo, i bagni pubblici, peraltro proprio a pochi metri da una fermata del bus. Ma l'inefficienza amministrativa del Comune di Taranto non finisce qui. Alle spalle dei bagni che vi abbiamo mostrato, bagni completamente rotti, ci sono dei bagni a gettone. Vedete, questi bagni, anche questi non funzionanti. Così, diciamocelo apertamente, se a qualcuno scappa la pipì e trova il bar non disponibile, cosa fa? Se la fa addosso o la fa nei giardinetti? Una bella risposta che l'ex sindaco Melucci, prima, e il commissario prefettizio dovrebbero darci. Beh, è l'ora che Musillo e Melucci vadano a casa, hanno creato già troppi danni alla città, hanno reso la città invivibile. L'alternativa c'è, la nostra proposta di Taranto senza Ilva, difesa dell'ambiente, vivibilità urbana, sicurezza, sono i cardini del nostro programma. Per questo vi chiediamo la fiducia. Io per 21 anni ho combattuto per Taranto da giornalista, andando a denunciare tantissime storture, tantissimi disastri a livello ambientale, a livello, come detto, di vivibilità. Per Taranto ho sempre lottato, non è solo il mio slogan, ma è la mia storia e la mia vita.